Napoli e raffa, Napoli e raffa, Napoli e raffa, Napoli e di fiuta, speciale cattro di ossina, Napoli e buda e le violette anzine, Napoli e salvo, Napoli e palomo, Napoli e camorra, Napoli e che qua... Vedi che Pasquero 1900, Pataterna, casesso sud sempre in deprimore, di buonissimo umore e società in mezzo e sette, fece chiamare San Pietro e la ricetta Pio, siente stamattina una bella giornata, l'aria è fina, fina, vorrei fare una scappata in terra, che te ne pare? Mo, dicette San Pietro, santo napoletano in baravis, capo guarda fortuno, mo, lei siete il padrone, pulite la terra e fate pure, però vedete, francamente, la terra è una poca afflittiva, la vessa disgusta, ma che, che dici? Su, vestiti, scendiamo, dove ci fermeremo, dove andiamo? Napoli, eh? Ti pare? Eh sì, signor, se dice, vita Napoli, pomore... ... 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 l'amore il salvo il risultato l'universale un po La legge che ha la legge perché comandano il niente di libertà, un porno di Dio. E dita, e voce, e sfregge, si danno un violetto alla matisse, scomposte di anatomie di feste, all'obbitorio, fari, sparati sotto al cuore come tre occhi, all'indrasatta, un cammeo di assunta spina. Ci ricorda che bastava esagerare gli aggettivi per Campania, per essere moltiplicati come i panni, come i pesci, o gli amanti, i tradimenti, tanto per essere precisi, i mantelli dei poeti del resto si allargano a Campania, come quelli dei Gaffoni, pipistrelli, sciaccia mosca, sciaccia mosca, pipistrelli, a cui si dice guardia, hanno mani butterate dall'azoto, ulcero schiattose lungo gli anulari, dai bordelli scendono simili a regani di sangue, dai bordelli scendono che sembrano macelli, schifati da tutti, schifati da tutti, schifati da tiri. Ilato del Dio Ilso è mostrando con la HE Adigeb localizzare gli aί universal del nostro autocarbi, che in queste parole basta fare il suo hash, il nostro autocarbi ce l'ha scelta in un'opera cuore a doppi intorno. Il nostro amicoPLANido è il minuto struttore e il nostro Agence. Il nostro dólari sono montre renewal ed store costruمte da tutti il nostro carattere. La nostra..?